Come le saprà, chi non va a votare in queste elezioni verrà segnalato alla motorizzazione civile e gli verranno tolti 8 punti dalla patente. Lei è d'accordo? È un paese un po' incivile questo. Sì, perché il voto non solo è un diritto ma è anche un dovere e se non si va a votare non ci si può poi lamentare di chi ci governa. Ma non è possibile. È una buffa. Chi non ha la patente, magari non l'ha ancora presa, cosa fanno? Gli tolgono gli 8 punti già quando poi prenderà la patente, questo è. Per qualsiasi cosa ti tirano via i punti e tirano via i punti e guardi brutto qualcuno ti tirano via i punti. Lei è andato a votare? Sì. Quindi ha tutti i punti sulla patente? Certo.